sono felice di aver letto l'ultima raccolta poetica di Elisa Longo dal titolo ribilanciare per sottrazione edita da samuele ritore con una splendida prefazione di giovanna rosadini cosa si vince da questa raccolta da questo lavoro di Elisa Longo che c'è stato un lavoro incredibile sulla parola su ogni sintagma sulla scelta metrica sugli schievi metrici ma cosa ancora più interessante è che esiste un messaggio molto ben delineato definito che riguarda l'ontologia la nostra ontologia la nostra fenomenologia esistenziale ovvero il nostro esserci nel mondo è costituito da ascese celestiali d'accordo da discese inferiche abissali d'accordo da miopie possibilità perse dubbi perplessità incertezze eccetera eccetera ma esiste una possibilità attraverso un lavoro sul proprio io poetico e narrante quella di riequilibrare ribilanciare il proprio focus un focus che ci dice che il proprio eterno sia la vita è molto più forte di qualsiasi cosa nonostante tutto nonostante tutti dell'accoglia di Grazie.